Due volte all'anno, d'ora in avanti probabilmente una, ci dobbiamo preparare ad aggiornare il nostro Windows 10, perché Microsoft, nel periodo primaverile ed autunnale, rilascia l'aggiornamento corposo, portando ogni volta diversi cambiamenti. Non tutti sanno che, attraverso una reinstallazione del sistema operativo, Microsoft conserva tutti quegli ipotetici file che c'erano una volta, che possono essere personali come musica, video, documenti di testo, dati vari dell'account, eseguibili dei programmi precedentemente installati, ma soprattutto dati della vecchia build, inclusi backups e logs. Siccome una volta aggiornato o formattato il PC, questi elementi diventano praticamente inutili e possono risultare all'utente non indispensabili, appunto, è possibile rimuoverli del tutto, visto che occupano su memoria diversi gigabyte. Attenzione però, non è tutto rose e fiori. Questi suddetti files devono essere presenti se si vuole ritornare alla versione precedente dell'OS, oppure se li vogliamo recuperare sempre dal precedente sistema operativo, come può essere Windows 8.1, 8, 7. Magari perché in quella nuova avete riscontrato diversi problemi, come il fatto dell'incompatibilità con programmi e drivers. Perciò, se eventualmente siete intenzionati a fare eseguire la vecchia build di Windows 10 o il precedente Windows 7 che girava sul PC, è meglio non cancellare questi dati, altrimenti sarete costretti a rimanere nella versione attuale, quella appena ricevuta da Windows Update o Windows Update Assistant oppure generata da una formattazione. Io, che non ho mai riscontrato particolari disagi nelle nuove versioni rilasciate, elimino questi superflui files che servono solo a riempire il disco inutilmente. Come fare ciò? È semplice, nessuna procedura ostica con linee di codice su CMD, basta semplicemente far lavorare lo strumento pulizia disco. È sufficiente andare in pulizia file di sistema per poter constatare quanta memoria ha occupato la precedente versione di Windows, attraverso questa voce, che ora a me non compare nella videata principale perché ho già completato la procedura, però potete prendere come riferimento questa schermata. Una volta che la progress bar si completi potete verificare l'avvenuta eliminazione di questi file attraverso le proprietà del disco, comparando la dimensione occupata che c'era prima. Bene, per questo argomento è tutto, vi invito a lasciare il mi piace per il supporto e noi ci vediamo ad un prossimo video.